Ecco, ci racconti degli episodi riguardanti la tua infanzia, la tua gioventù nel Matteotti. Mi ricordo, per esempio, che avevi accennato, eravamo intorno al 1941, tu avevi 12 anni, in cui eri solo, perché il tuo papà era al fronte, con la tua mamma che era indisposta e stava molto male. Sì, infatti quel periodo è veramente un periodo che non posso dimenticare perché è uno dei periodi più neri della mia vita. Infatti la mia mamma, che era la sola della famiglia che lavorava perché mio papà era in guerra, era a casa con bronchite, polmonite e tifo in una volta sola. Soldi finiti, i buoni per il pane che davano erano finiti perché non mangiavamo altro, eravamo andati fuori media, a questo punto mi sono messo in bicicletta d'inverno a girare per i contadini di Gerenzano, di Humboldt specialmente, per trovare qualcosa da mangiare. Allora si tenevano via le patate, cercavo un po' di patate per dare qualcosa alla mia mamma e per mangiare, e anche io che la fame non mancava. Niente, neanche uno che si era degnato di darmi almeno una patata, nessuno si è commosso al punto, e io ti giuro che sapevo commuovere perché sapevo anche recitare un po', l'avevo messo giù dura, niente da fare. Allora proprio sconsolato, all'imbrunire, stava diventando buio, con la mia bicicletta tornavo da Humboldt e mi ricordo che ho proprio pianto, ho detto adesso che cosa faccio? E lì l'illuminazione, ho detto ma hanno seminato, mi diceva quel contadino che hanno appena seminato le patate, non ne ho più perché le ho appena seminate, mi sono fermato in un campo cose da vandali, ma era troppa la fame, mi sono messo a dissoterrare le mezze patate che impiantavano, mi sono fatto un sacchetto pieno, l'ho portato a casa e almeno per un paio di giorni qualche cosa abbiamo potuto mettere nella pancia e per il pane il giorno dopo, un mattino sempre in bicicletta, vado da un panettiere, mi ricordo era davanti alla scuola Ignoto Militi, in centro, vicino alla chiesa, sono entrato e gli ho detto non ho più buoni, ma non ho pane, volevo solo se si può avere un panino, non ho qui niente buoni, niente pane, sono andati dietro nel retro dove avevano il forno, io in un lampo e bene sì ho rubato, ma non il pane, c'era un cestino con i buoni dentro, ne ho preso una mangiata e sono scappato via e poi sono andato da un altro prestinaio a prendere il pane e così almeno abbiamo mangiato, è stata l'unica tua azione negativa, non ho mai più rubato, però non sono perdito, solo per fame, è stata proprio per la fame, per aiutare la tua mamma, ma sì era così ammalata per la stella e poi è guarita, via. Poi ci sono degli altri episodi che riguardano le ciliegie, orsi, ti dice qualcosa ovviamente? Per bago, per bago, intanto c'era il nostro Nino Orsi che aveva un orto che era una cosa stupenda, aveva dei pomodori che erano grossi così, allora noi alla sera andavamo tutti a letto, però avevamo la fortuna che quasi tutti quelli della compagnia abitavano al piano terra, quando i genitori dormivano tiravamo su un pezzo la tapparella, scappavamo fuori dalla finestra, eravamo a pian terreno, tutti gli aerodi, Nino Orsi, l'Abramino, tutti giù abitavamo, allora saltavamo fuori, andavamo alle quattro strade dove c'era il lampione, uno portava le forchette, l'altro portava la marmitta, una marmitta, chi aveva magari un pezzo di pane o che, un altro portava l'aceto, perché di olio non ce n'era, l'aceto, un altro portava il sale, mancavano i pomodori, i pomodori quelli belli erano nel giardino del Nino Orsi, allora il Felice, il Tarcisio e il Sena tenevano a bada il Nino Orsi, mentre io e altri tre o quattro andavamo nel suo giardino a prendere i pomodori e poi naturalmente li mangiava anche lui. Il giorno dopo il padre disperato diceva, ma chi è che viene nell'orto a rubare? Lui veniva da noi e diceva, ma non è che sei stato nel mio orto? Ma sarai mica matto, dicevamo, invece andavamo lì. Con una sfacciataggine, la fame era troppa. Ma poi non c'era la televisione, la radio l'aveva solo il sindaco e il farmacista, qualche cosa ci dovevamo inventare. Infatti che cosa ci siamo inventati? A un certo punto ci siamo inventati anche come si faceva per andare a mangiare le ciliegie e lì c'era il giardino del Romano. Abbiamo fatto un buco in della ramada, come dicevamo noi, no? E di lì entravamo e facevamo incetta di ciliegie. Solo che a un certo punto lui se ne è anche accorto e cercava di curarci. Oh, questo qui aveva anche il fucile, bisognava fare attenzione. Da noi ad aiutare Don Francesco veniva niente po' di meno che Don Giussani. Don Luigi Giussani. Don Luigi Giussani che era un pretino ancora più giovane del Don Francesco. Non si parlava di comunione e liberazione. Non sarebbe venuto successivamente. No, successivamente. Allora era un pretino appena fatto. Veniva a dare una mano e intanto faceva un po' di pratica con i ragazzi, eccetera. Quello era proprio uno di noi e ci diceva, oh ragazzi, però no dai, non andate più a rubare le ciliegie. Le ciliegie ve le compro io e ve le porto qui. Eh no, Don Luiz. Caro prete, ti diciamo, perché ci davamo del tuno, ti diciamo che le ciliegie rubate sono molto, ma molto più buone di quelle conferate. Ma dai, non fate così. Ma fate così sì, te devi provare. Vieni con noi una volta. Ma vi è altersi, ma vieni con noi una volta. Non stuzzicatemi perché sono capace di venire. Eh dai. Allora un giorno viene da noi e ci dice, ragazzi, ho deciso. Vengo con voi a rubare le ciliegie. Uè, abbiamo convinto il prete. Tutti quanti incorrono. E alla sera andiamo nel giardino del Romanò. C'è il buco, lasciamo fuori il rino Maroni vestito da donna. A far da palo. A far da palo col nino orsi, abbracciati che facevano finta di fare i fidanzati. No? Lì è a tappare il buco. E noi dentro col prete. C'era, guarda caso, una scala già piazzata lì. Siamo andati su, abbiamo fatto incetta di ciliegie. Siamo usciti, una pancia così tutti quanti. E noi al prete. Allora, avevamo ragione che sono più buone o no? Avevate ragione. Erano buone davvero. E sapete perché siamo entrati anche col prete? Perché il prete il giorno prima ci ha fatti i fessi tutti. E' andato dal Romanò. Uè, salveci il Romanò. Uè, buongiorno Don Luigi. Cosa desidera? No, sa. C'ha questa bella pianta di ciliegie. Non potevo fare a meno di entrare a vederle. Ne vuole qualcuno? No, 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 no. Fa io no. Però, sa. Ci sono i miei ragazzi che quando passano le guardano. Chissà cosa pagherebbero per mangiarne un po'. Eh, ma dono. Li fa io a faga vennichi che li mando, che li faccio cogliere. No, ma vede. Loro gradirebbero mangiarne qualcuno ma alla sera, sa. Così, in tutta tranquillità. Vengono dentro tranquillamente e... Ma sono già venuti dentro dei ladri a rubarmi le ciliegie e sugli altri alberi anche l'altra frutta. Pensi che mi hanno fatto un buco dentro nella centa anche. Sì, adesso aspetti a tapparlo, va, lo lasci lì che stasera, se non le spiace, faccio entrare i miei ragazzi di lì, così non la disturbiamo. Oh, vabbè, se per lì... Sì, faccia così, dai, mi fa un piacere, signor Romano. Ma sì, dai, venga dentro. Le raccomando, non rovini niente. Vedrà che troverà tutto a posto come prima. Ecco perché è venuto a rubare le ciliegie con noi. I sacerdoti ne sanno una più del... Sì, del diavolo. E Don Giussani ha lasciato un ricordo bellissimo, quasi come quello di Don Francesco. Don Francesco pensa che ci ha seguiti tutti noi che ci chiamavamo la DDV, che voleva dire disperazioni del villaggio. ci ha seguiti fino a praticamente una decina di giorni prima di morire, che ha voluto riunirci tutti su a Barzio, per averci lì io, il Sena, la Catino, ma tutti quanti, insomma, quelli disponibili, siamo andati tutti su, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, è stato bellissimo, e poi ci siamo visti l'ultima volta al suo funerale, dove lui era esposto nella chiesetta del Coe, ma giuro era sorridente. Non ho mai visto, ne ho visti di cadaveri, ma un cadavere sorridente mai. Don Francesco sorrideva. È un ricordo stupendo, bellissimo, incredibile. veramente un santo uomo. Era tornato da tanto amore e affetto vostro. Eh, ma è quello che ci dava lui.